Simona Perillo, presidente e direttrice artistica dell'area Danza, una importante scuola di balo della nostra città, avete fatto per la prima volta il saggio al Teatro Carlo Gesualdo, più di 80 allievi, grandi emozioni. Grandi emozioni, soprattutto perché vedere il lavoro che tutto l'anno svolgono le nostre allieve e poi appunto vederle scena in una cornice così prestigiosa come quella del Teatro Gesualdo veramente riempie il cuore di emozioni per noi, per me e il mio staff che seguiamo tutto l'anno le bambine e per i genitori che sempre ci sostengono e ci aiutano in questo lavoro così bello ma al tempo stesso così difficile. Quali sono le caratteristiche perché una bambina o un bambino poi possa esprimersi nel mondo della danza? Restano sempre le stesse, la disciplina, l'ordine ma la passione credo. Prima di tutto la passione, senza di quella non si va da nessuna parte. Poi ovviamente la disciplina è quella che noi cerchiamo di dare insieme alla tecnica ma soprattutto cerchiamo di valorizzare ogni persona, ogni bambino, ogni bambino, ogni ragazza per quello che è. Infatti la cosa che più mi riempie di gioia è che vedo la loro gioia, il loro sorriso, il loro entusiasmo quando ballano e poi penso che per essere semmai qualcuno di loro diventerà in futuro un ballerino deve mantenere sempre l'umiltà. L'umiltà è la cosa più importante, la voglia di continuare ad imparare, la voglia di continuare ad impegnarsi e studiare sempre. Ancora noi studiamo e ci aggiorniamo continuamente. Quali sono gli obiettivi futuri della tua scuola? Allora in questo momento diciamo che come obiettivo principale è quello di mantenere questo mood, questo ritmo, questo entusiasmo e migliorare sempre dal punto di vista tecnico e artistico, implementare con gli stage, con maestri esterni che sono sempre un momento di arricchimento sia per noi insegnanti ma soprattutto ovviamente per i nostri allievi e poi si spera appunto sempre di proseguire su questa scia. La mia idea, la voglia che avrei, insomma vorrei costituire una compagnia con le ragazze più grandi perché ormai sono tanti anni che sono con noi e hanno acquisito una certa padronanza del palcoscenico che mi piacerebbe in futuro costituire con loro anche una compagnia.